ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di kairos dovete sapere che l'ospite di oggi io lo conosco dal tempo delle superiori e praticamente già all'epoca era propenso nell'aiuto dell'altra persona perché lui era il rappresentante d'istituto della scuola che frequentavo per cui vi presento edoardo cicconi che qui presente ciao ciao ilaria e ciao a tutti ciao grazie per avermi invitato grazie a te di essere di aver detto sì e di essere qui oggi senti parlaci di te raccontaci che cosa fai io ho già dato un input rispetto a quello che già è insito in te praticamente ma sì nel senso senza partire proprio dalla pre storia nel senso che sono passati facevo conto giusto ieri quando me l'hai detto sono passati circa 24 25 anni quindi facciamo un piccolo step in avanti però sì secondo me mi è piaciuto questo tuo aggancio perché perché ci sta nel senso che è vero che io ho sempre comunque voluto fare delle cose per gli altri e ho sempre avuto delle cose da dire mettiamola così no nel senso che mi è sempre piaciuto comunque divulgare delle informazioni delle notizie eccetera e poter essere utile all'altra all'altra persona per fortuna o per bravura nel senso che poi la fortuna non credo tanto sono riuscito anche a farne sostanzialmente un lavoro poi anche attraverso le campane tibetane che sono un po il tema che abbiamo deciso di portare qua oggi ma che secondo me sono solamente tra virgolette un mezzo e sottolineo un quindi non il mezzo ma uno dei tanti mezzi per poter aiutare l'altro per potersi aiutare anche anche da soli ai fini anche terapeutici ma sicuramente meditativi che è un po quello che di cui mi occupo negli ultimi negli ultimi anni insomma più di dieci anni infatti come vedete è cambiato il set abbiamo le campane tibetane che ci hai gentilmente portato che sono gli strumenti che utilizzi una parte immagino perché ce ne sono tantissime senti a proposito raccontaci e specifica ci meglio che cosa sono le campane tibetane che cosa servono appunto hai già introdotto la meditazione eccetera per cui vai ti lascio ruota libera vado vai allora partiamo dal nome che a me fa sempre sorridere che già c'è un piccolo intoppo nel senso che in italiano e solo in italiano si chiamano campane e che già distorce un po perché effettivamente hanno una forma di ciotola e non di campana tant'è che in tutte le altre lingue del mondo si chiamano ciotole tibetane non e non campane tibetane sono degli strumenti anche nel senso stretto perché emettono effettivamente un suono emettono delle note emettono delle vibrazioni queste vibrazioni delle campane tibetane vanno a dialogare direttamente con dei pezzi del nostro corpo e con ogni cellula del nostro corpo i pezzi del nostro corpo con cui vanno a dialogare in realtà sono dei centri energetici dei vortici energetici che in sanscrito l'antico l'antica lingua dei deva in oriente in india significa proprio vortice questi chakra che possono sembrare però qualcosa di un pochino astratto a me piace definirli raccontarli con un termine un pochino più contemporaneo come degli hard disk esperienziali come dei registratori della nostra vita che esattamente come fa un qualunque altro tipo di registratore immagazzinano ogni nostra esperienza a seconda del tipo di esperienza diciamo così viene incasellata nel suo chakra di riferimento tutti noi ne abbiamo sette il primo alla base della colonna vertebrale poi a salire fino al settimo sopra la testa la cultura indiana spesso ci può sembrare molto lontana dal nostro dal nostro comune in realtà se scaviamo proprio un pelino oltre la superficie ci accorgiamo che tantissime cose noi le facciamo e le interpretiamo esattamente nello stesso modo dandogli magari un altro un altro nome il collegamento coi chakra il settimo chakra viene chiamato in sanscrito e sastrara il chakra della corona nell'iconografia cristiana cattolica è quella che è l'aureola dei santi di quelli che hanno raggiunto quello stato di illuminazione quelli che sono riusciti a portare l'energia dai primi chakra quelli più materiali più terreni più concreti più del fare ad elevare l'energia kundalini in sanscrito fino al settimo fino al settimo chakra quindi a raggiungere quello che poi viene chiamata più o meno in maniera propria illuminazione insomma hai parlato di suono e vibrazione ci vuoi specificare anche qui che cos'è la vibrazione cos'è il suono appunto noi siamo abituati nella nostra cultura di indottrinamento occidentale è una cultura del fare una cultura del concreto è la cultura del se non vedo non credo però poi abbiamo in realtà tantissimi esempi di cose invisibili di cui noi percepiamo assolutamente un effetto visibile o un effetto concreto e reale quello facile la temperatura noi il sole non è che vediamo l'energia del sole però lo sentiamo che scalda è così come tu in questo momento stai sentendo la mia voce ma non credo che vedi le parole uscire no questa è la vibrazione quindi la vibrazione è una cosa invisibile però c'è quindi questo ci insegna che non tutto quello che non vediamo non esiste semplicemente che non lo vediamo però lo riusciamo a percepire possiamo fare un esempio per rendere capibile il wifi ad esempio la connessione dati perfetto assolutamente lo stesso esempio certo certo sì sì cellulare cellulare un po come bocca orecchio quindi c'è una trasmissione di energia o di vibrazione di onda sonora che anche se non si vede c'è e questo perché secondo me è importante è importante per andare un pochino oltre l'apparenza nel senso che anche a livello un pochino inconscio tutti noi percepiamo che anche quando guardiamo una stanza lo spazio senza oggetti in realtà è tantissimo e a quel punto noi possiamo dire ok questo spazio è vuoto oppure possiamo dire beh però io sento qualcosa percepisco qualcosa ho delle sensazioni e a quel punto la scelta è nostra quindi mi fido di queste percezioni di queste sensazioni e dico ma no sarà solamente frutto della mia immaginazione però ancora una volta ritornando al linguaggio popolare e al sapere popolare c'è sempre stata quell'espressione a naso quella situazione non mi piace a pancia quella persona non mi risuona e quindi abbiamo tutta una serie di di usi che ci riportano proprio alla vibrazione al suono al riconnetterci e al fidarci all'affidarci a quella vibrazione che sentiamo giusta vera e corretta la sentiamo giusta vera e corretta finché poi non interviene la mente la mente è la nostra mente attuale il frutto minimo del pensiero di ieri perché non abbiamo nessun pensiero che non sia pregresso non abbiamo niente nella mente che non sia vecchio e quindi poi entrano quindi tutti i filtri tutto il già vissuto tutto ha però quella volta però mi ha detto ha però eccetera eccetera credenze anche non solo proprie ma anche popolari quindi io arrivo a dire che non esistono credenze proprie nel senso che nessuno di noi ha una propria credenza perché la credenza che abbiamo in realtà ce l'ha comunque sempre detta qualcun altro trasmessa in qualche modo e sì poi se l'altra persona è in buona fede allora va bene se l'altra persona aveva un minimo interesse a condurci da una parte o dall'altra ne vediamo quotidianamente gli effetti di quello che succede nell'indottrinamento non solo religioso ma anche politico anche sportivo anche sociale anche di qualunque di qualunque tipo la moda stessa a questo punto assolutamente certo ma assolutamente sì 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 lo vediamo in tantissimi campi mentre io dico che ritornando alla percezione di quella vibrazione che noi avvertiamo sempre e comunque secondo me ci azzecchiamo molto molto di più ci ritroviamo a vivere delle situazioni molto più vicine proprio al nostro sentire perché quella situazione mi risuona di più quella quella persona è sul mio stesso lunghezza d'onda quindi abbiamo tutto e sì c'è questa espressione le abbiamo e che poi le diamo un po per ma sia un'espressione perché anche lì secondo me l'aspetto più importante della meditazione non è stare seduti nella posizione del lotto magari sotto la cascata o in cima all'Himalaya ma è proprio il farci caso che è un po secondo me la traduzione contemporanea di meditazione senza fare troppe cose filosofiche quindi il vivere la vita con attenzione vivere la vita con consapevolezza e non come fosse un libro scritto da altri come giustamente dicevi tu con presenza meditazione e anche cucinare per esempio assolutamente sì è fondamentale per fare questa cosa qua e fare una cosa per volta l'illusione del multitasking è uno dei grandi inganni della società moderna assolutamente sì noi è già buona se riusciamo a fare una cosa fatta bene e già sappiamo ci rendiamo conto quanto è difficile fare quella cosa lì fatta bene tant'è che chi la fa fatta bene lo definiamo genio abbiamo queste parole qua e poi però ci illudiamo di poter fare due tre quattro cinque cose contemporaneamente inevitabilmente le facciamo male o non bene tutte perché non non è possibile fare questa roba qua adesso hai parlato di cellule di segmenti ogni campana secondo te cioè secondo te te lo chiedo ha un uso specifico per una certa situazione piuttosto che un certo organo piuttosto che dimmi allora in questo caso io differenzio sempre la teoria dalla pratica nel senso che soprattutto sulle campane tibetane c'è una certa teoria che oggettivamente non è tantissima nel senso che non l'ho detto prima sono strumenti antichissimi poi che si sono completamente persi per voi della domina per via della dominazione poi in india in nepal in tibet di inglesi musulmani cinese quindi si è molto persa questa questo uso qua e soprattutto non esisteva una tradizione scritta era assolutamente tutta una tradizione orale in quei in quei paesi quindi c'è poi c'è qualcosa ma c'è poco a cui sicuramente possiamo affida fare affidamento ma secondo me ritornando al discorso di prima vale la pena sperimentare in prima persona quindi se una campana mi risuona di più in una determinata parte del corpo in un determinato momento è sicuramente quella da usare per quella cosa lì poi c'è c'è una teoria ci sono le campane un pochino più larghe un pochino più grandi di diametro scusami afferiscono i chakra più bassi afferiscono i suoni più profondi mentre solitamente quelle un pochino più piccole come quella lì la prima fanno riferimento al chakra più alti alle note più alte e quindi alla parte più alta del corpo ecco mettiamola mettiamola così però e hanno anche delle note ogni campana ha una sua specifica nota più svariati armonici a seconda poi appunto del tipo del tipo di campane a seconda del tipo di qualità della campana nel senso che purtroppo per fortuna anche le campane tibetane non sono tutte uguali dipende sempre da chi le fa da come le fa e da con che intenzione si mette a fare una campana queste sono tutte fatte a mano sia proprio forgiate che decorate che decorate a mano ne esistono in commercio come di tutte le cose essendo un commercio esistono di qualunque qualità di qualunque tipo queste tu dove le hai acquistate queste in nepal sei stato non sono stato in nepal ma me le sono stato in india diverse volte in nepal me le portano prima me le spedivano quando era possibile adesso è impossibile però me le portano me le portano qua senti hai parlato di note musicali ne possiamo sentire una giusto per comprendere certo questa rappresenta che cosa allora il disegno e tara non mi chiedere la nota perché non la so se però qualcuno ha l'orecchio assoluto la possiamo scoprire sennò io di solito utilizzo un app utilizziamo bene la tecnologia e quelle app ti dicono ti dicono le note ci sono due modi per suonarla una è per sfregamento e una per percussione suoniamola per strofinamento che secondo me è quello già meditativo di suo wow arriva fin dentro proprio nel profondo anche se non l'ho in mano io praticamente sì sì ovviamente con il contatto col corpo le vibrazioni arrivano in maniera diretta però appunto poi il suono e la vibrazione si espande è un po come il sasso nello stagno quindi è un'onda circolare che si espande in tutte le direzioni quindi poi arriva dove deve dove deve arrivare e questo piccolo chiamiamolo esercizio di 30 secondi è già un momento per fermarsi per rallentare per stare per uscire dal flusso della corsa del devo fare devo andare la spesa il gatto la nonna mi fermo e suono la campana ascolto la campana respiro con la campana infatti ti volevo chiedere proprio hai usato molto la respirazione vuoi specificare qualcosa cosa accade certo allora il respiro è chiaramente tutti noi respiriamo e lo facciamo da svariati anni e svariate volte al giorno esattamente come tutto il resto che dicevamo prima farlo in maniera consapevole cambia completamente la faccenda proviamo a pensare che noi siamo vivi oltre perché mangiamo eccetera ma soprattutto perché respiriamo nel senso che magari senza mangiare possiamo stare diversi ore senza respirare non ci possiamo stare neanche diversi minuti quindi il respirare realtà è un atto fondamentale un atto d'amore soprattutto per il nostro corpo farlo in maniera consapevole farlo in maniera affannata del devo correre devo andare oddio non mi ricordo neanche che devo respirare crea tantissimi problemi al corpo innanzitutto che poi si trasformano in dei disagi fisici veri e propri anche ritorno ancora una volta alla nostra antica conoscenza anche europea mensane incorpore sano c'era l'idea che di un benessere olistico di un benessere a 360 gradi che non ci potesse essere benessere del corpo senza il benessere della mente e viceversa che è nell'equilibrio che io posso stare bene io aggiungo equilibrio di corpo mente e spirito che è un po poi anche la traduzione della parola yoga che è una parola che tutti noi ormai usiamo è diventata d'uso comune cosa voglia dire non si sa no invece si sa e vuol dire proprio unione armonica di corpo mente e spirito che è bellissimo no nel senso che non è ginnastica la traduzione di yoga ma è un'unione armonica di corpo mente e spirito anche il respiro è proprio uno degli otto rami senza dilungarci troppo è proprio uno degli otto rami della pratica yoga e quindi è sicuramente un atto fondamentale per il nostro star bene e vivere bene insomma hai parlato tanto del momento presente piuttosto che dello yoga delle campane tibetane il respiro il non pensare al gatto la nonna eccetera alla spesa quindi mi stai dicendo praticamente che è un atto meditativo il fermarsi utilizzando anche da soli la campana tibetana si può giusto assolutamente sì certo ok e ci vuoi specificare a livello tu che cosa fai con campane tibetane yoga e meditazione a questo punto sì allora in realtà sono detta molto velocemente sono la stessa cosa nel senso che non sono inscindibili quello che io faccio è anche quello che sono non c'è differenza e secondo me non ci può essere nel senso che se no arriva quella roba lì no nel senso che appunto come dicevamo prima sono cose di moda a me sta anche bene che siano di moda nel senso che almeno se ne parla almeno si diffonde questa cosa qua farlo senza esserlo però un pochino complicato no vado a fare yoga e va bene in quell'ora lì hai fatto yoga e poi nelle altre 23 ore che cosa fai no è un po come vado a fare l'amore o sono amore cambia un pochino no la situazione io guarda abbiamo degli specchi un po alla all'adhering io dico che che la meditazione è uno strumento un po come lo specchio c'è la meditazione non ti risolve niente e se io voglio vedere se sono bello brutto guardo lo specchio ma non è che lo specchio mi risolve il mio essere bello essere brutto e lo stesso la meditazione la meditazione mi porta ad accorgermi di alcune cose un po come se mi guardo lo specchio mi accorgo che c'è qualcosa che non mi piace e mo la palla però in mano a me decido io se all'ok non mi piace la cambio oppure non la cambio no è però prima dove devo guardarmi esattamente la stessa cosa devo meditare quindi io la propongo esattamente con questa finalità qua non c'è un fine unico nella meditazione ma ognuno trova il suo fine la meditazione è più un mezzo anzi è un mezzo non è un fine proprio il mezzo per accorgersi di cose per accorgersi di che cosa sto vivendo di che cosa ho fatto di come sto affrontando la quotidianità e a quel punto lì se mi accorgo che c'è qualcosa che non mi piace beh o sono masochista e può essere ci sono anche quelli e oppure decido di cambiare e quindi poi questo comporta una grossa responsabilità perché finché le eredini della mia vita sono in mano un altro io posso lamentarmi della sfortuna della fortuna governo ladro questo tizio e caio è sempre ognuno se invece io mi accorgo che le steredini ce le emano io e beh allora dipende da me decidi tu è certo però mi prendo anche i meriti a quel punto lì perché se sono stato bravo non sono stato fortunato sono stato bravo e quindi cambia proprio la visione l'approccio poi alla alla quotidianità e a quello che attraiamo noi attraiamo sostanzialmente quello che siamo e quindi se io sono gioia amore felicità è molto probabile che io attragga gioia amore felicità se io sono depresso incupito e piango tutto il giorno attrarrò quella cosa lì per il discorso che abbiamo fatto inizialmente delle vibrazioni tutto lì per quello che sono così importanti queste vibrazioni anche se sono invisibili insomma quindi io le propongo proprio scusami ritornando alla tua domanda come un mezzo come un mezzo che poi ognuno ne trae il suo beneficio momentaneo un pochino più duraturo io ci sono arrivato diciamo per caso poi io sono il primo a dire che il caso ovviamente non esiste tutto quello che ci succede ha un senso sta noi poi accorgersi o cogliere quel senso oppure prendere o sprecare quella quell'occasione quindi ho incontrato questi strumenti non sapevo minimamente parliamo di più di dieci anni fa non sapevo nulla di questi strumenti stavo bene li sentivo suonare andavo da altre persone che li suonavano stavo bene ero contento tornavo a casa e la settimana dopo riandavo a un certo punto detto beh proviamo a capire perché sto bene no e qui siamo arrivati qua quindi è stato proprio una cosa che prima ho vissuto in prima persona su di me perché io comunque sono molto concreto c'è ok la filosofia o che la spiritualità però poi siamo in un mondo materiale nel senso che potremmo scegliere di vivere sulla casetta sull'imalai o anche nel bosco a samarate però non staremmo affrontando l'esperienza materiale che siamo chiamati a vivere il corpo è un oggetto materiale quindi se abbiamo un corpo e per fare esperienza se no saremo degli spiriti secondo me siamo stati degli spiriti che vivevano in quel tipo di pianeti torneremo a esserlo ma qui abbiamo un corpo e quindi è giusto vivere nel mondo senza però essere del mondo quindi senza farsi tirare dentro dalla materialità ma vivere anche questo aspetto materiale in maniera spirituale è il momento di chiudere la puntata grazie ancora io ringrazio 07 barra samarate per la location che ci ha ospitato ci vediamo la prossima puntata ciao ciao ciao